Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Non mi ero mai informato più di tanto ed è un gioco che reputo molto interessante e sono veramente contento di portarvi anche se non so dirvi il prezzo. Il gioco è un mix di più generi, lo cominciamo, adesso non ricordo dove sono arrivato perché l'ultimo momento che ci ho giocato, un attimo fa ci ho già fatto un paio d'ore, diciamo che mi è saltata la luce quindi spero mi abbia tenuto gli ultimi save. Allora in sintesi di che cosa parliamo? Parliamo di un titolo che mixa più generi, noi siamo Robin Hood e ci ritroveremo di fronte tutti i personaggi canonici della serie. Qui abbiamo Marian, abbiamo Far Attack lì in fondo, abbiamo Lisa John qui, con delle varie missioni. Che cosa succede? Noi ci troviamo, adesso fatemi vedere solo l'inventario, questo è l'inventario dove possiamo fare un rapido crafting oltre che andare nelle zone dove ci sono i tavoli da crafting e lavorare, commerciare insomma o produrre altre merci. Che poi a breve vi faccio vedere perché non voglio anticiparvi tutto subito, vi voglio far vedere un pochino come funzionano le meccaniche base. Allora noi prendiamo la nostra accetta, ovviamente con il tasto I vedo tutto l'equipaggiamento che ho, che posso poi cambiare. Posso mettere nella barra veloce degli oggetti, vedete che ho qua delle cose, e premendo il tasto Tab posso andare a scegliere quale usare. In questo caso io ho il pino, io clicco quando il rombetto si evidenzia e vado ad abbattere il pino. Quindi praticamente questa è una parte che ricorda molto Medieval Dynasty, quindi noi andiamo, scaviamo, tagliamo, raccogliamo erbe, vaghiamo per il mondo e abbiamo modo di recuperare risorse. Questo è l'inseriamento, poi c'è tutta una storia comunque con un ampio tutorial della durata di circa un'oretta di fratetac, fratac, che vi illustreranno le meccaniche base di gioco. Ma il gioco non finisce lì, il gioco non è multiplayer, è solo single player ed è in italiano. La cosa interessante è che il gioco è anche doppiato per quanto riguarda le risposte che diamo noi. Vedete che lei la parla, io rispondo, e lui risponde. Che cosa fate? Voi in questo gioco potete costruire il vostro insediamento, ma al tempo stesso potete girare per il mondo. Ci sono molte cose che vorrei farvi vedere, adesso io apro la cassa qui, vediamo cosa c'è dentro, prendo sta roba, ok. Allora, iniziamo con... mi sono fatto malissimo. Iniziamo col dire che la mappa è questa, questa è la zona dove costruiamo, ma non è finita qui, perché la mappa è così, è così, è così ed è così. Ecco, questa è la mappa di gioco, divisa fondamentalmente in quattro parti, noi ci troviamo in questa, poi c'è quella della foresta di Sherwood che è qua sotto, e altre due. Abbiamo la possibilità di vedere le reputazioni, quindi quello che qui ci indica le fonti di reputazione sono tutte cose che possono essere richieste, quest attive, piuttosto che dei dungeon. Vedete che questo è un dungeon che ho fatto e ho guadagnato a reputazione. Ci sono punti di interesse, ci sono miniere, ci sono punti di viaggio rapido. Quindi vedete, io adesso ho cliccato lì e sono andato lì. Adesso non lo volevo realmente fare, ma ho cliccato per sbaglio. Comunque ne approfittiamo e vediamo una zona nuova. Oltre a questo, avremo modo anche di potenziare il nostro personaggio. Noi ci troviamo in questa zona, veramente molto evocativa come zona. Il mondo, come vi ho detto, è enorme. E ci troviamo di fronte anche a questo castello enorme. Anche se in realtà a questo castello, io ho visto che non è possibile entrare. Ma dato che è riportato così, probabilmente è legato a qualche quest. Infatti non posso entrarci liberamente, anche perché noi siamo i ricercati numero uno nella regione. Come è giusto che sia, come è la storia di Robin Hood. Abbiamo le abilità personali, vi dicevo saliremo di livello. Abilità personali attive e passive. Adesso vi faccio vedere tutto il menu. Questo ve l'ho fatto vedere, sono tutte le cose. Beh, prima di tutto, inutile saltare questo punto che è interessante. Noi praticamente andando nel magazzino, abbiamo modo di posizionare all'interno del magazzino, appunto della cassa, le merci che ci interessano. In questo caso io metto dentro qualcosina, abbiamo un sacco di... C'è il peso, ma soprattutto ci sono le parti, diciamo, contate, diciamo, di slot. Abbiamo, vabbè, queste statistiche che sono le varie resistenze, la rigenerazione delle salute nel tempo e così via. Abbiamo poi il diario che ci mostra, appunto, le quattro regioni e la reputazione che abbiamo in quelle regioni. Abbiamo le quest attive principali e secondarie, con la possibilità di tracciarle. In questo caso io posso tracciare la richiesta di maria e di costruire un laboratorio di alchimia. Le missioni completate, il tutorial di Frattacca che ci presenta tutte le basi di gioco. Le lettere, perché io ho completato anche un dungeon. E sul corpo del nemico ho trovato una lettera, che è questa. La storia, quindi, questa non è la storia, ma in realtà è tutto quello che è successo nel gioco. Abbiamo ottenuto questo oggetto, quest'altro, quest'altro ancora, abbiamo preso esperienze e così via. Questo è il menu base, ma non è finita qui. Perché abbiamo le abilità attive, inizio da qui, che sono quelle che attiviamo col tasto alta a sinistra, che sono abilità basate sulla spada, sull'arco o sui sensi. Perché il cacciatore ha questa abilità col tasto R di vedere tutti gli esseri viventi, comunque quello che ci circonda, quello che è lootabile. E la F che rallenta il tempo. E quindi quando noi andiamo a mirare, premendo F, possiamo rallentare per qualche secondo il tempo. Non finisce qui, perché qua, ok, vi ho già fatto vedere la mappa, ma qui abbiamo le abilità passive. Guardate quante, guardate, noi siamo del livello 4, abbiamo 9 punti, possiamo cliccare e andare a sbloccarne via via sempre di più, scegliendo l'indirizzo della nostra build, se basato sull'agilità, il sentiero delle lame, il sentiero dell'artigianato, la freccia, la resistenza o il sentiero delle ombre. Il gioco, come vi ho detto, è single player, quindi è un gioco di ruolo con conversazioni, con le risposte e le missioni da fare. Ora vi faccio vedere l'amministrazione del villaggio, cioè, se voi notate, lì in fondo c'è un edificio, anzi, in realtà più di uno, perché c'è questo edificio qui che io ho costruito qualche ora fa, che è la fucina, con cui possiamo fare i lingotti, usando varie cose. Abbiamo quella casa lì sull'albero che ho costruito io, su consiglio di fratà, che in pratica era una missione, e andando qui possiamo andare a gestire il villaggio e quindi andare a vedere quanti laboratori abbiamo disponibili, quanto cibo, quanti laboratori totali abbiamo e andare a costruire i laboratori di alchimia. Quindi in questo caso andare a scegliere dove posizionarlo, muovendoci con questo tasto qui, muovendoci con il destro, possiamo andare a posizionare. Ma in questo momento non lo posso fare, perché mi servono cinque laboratori, io cinque laboratori non li ho, mi sono buggato dentro un edificio, non lo posso fare, posso andare a costruire una casa. In questo caso le abilità sono insufficienti, quindi non me la fa fare. Abbiamo l'argilla, eh no, vedete qua che mi manda la cava. Cavoli, noi abbiamo laboratori di alchimia, mi manca però proprio un laboratore. Quindi praticamente dovrei andare a scegliere. Qua abbiamo la possibilità di vedere la storia, anche qui, delle costruzioni, e gli oggetti che abbiamo in magazzino, per quanto riguarda le varie categorie. Questa è la base, questa è la base del gioco. Poi ovviamente possiamo andare in giro per il mondo, ed esplorare. La cosa, adesso passiamo un po' più alle parti che io ritengo negative. Negative, vabbè qua c'è un palazzo, gli metto questo punto, andiamo a vedere cos'è. Allora, il mondo è bellissimo da vedere, senza dubbio. Diciamo che gli sviluppatori, io non ho visto altri giochi di questi sviluppatori, quindi probabilmente è il loro primo gioco, e sono in gambissima, perché il gioco è molto bello, mi piace. Il combattimento è molto piatto. È vero, ci sono le parate, le stoccate, ci saranno armi più potenti, in parte che avremo sempre la spada, perché Robin Hood comunque con una lancia non l'ho mai vista. Ci sono un sacco di puzzle, tipo qui quando il sole arriva esattamente qui, dovete indirizzare questo fascio di luce sotto lì, lì sotto da un'altra parte, anzi no, il sole già arriva, quindi in questo caso noi andiamo a posizionare questo in un punto che sia adatto. Possiamo ruotarlo. No, non me lo so fare, perché? Ah, così, ok. Ok, lo punto lì. Adesso vado a posizionarlo lì. C'erano delle pressure plate anche da posizionare, cioè ci sono un sacco di cose che ci intratterranno in gioco. Adesso vediamo, 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 vediamo. Dove devo andare con questo coso qui, che non saprei... Ah, qua, ok, devo puntarlo lì. Ok. E ho sbloccato, col Z si accende, ho sbloccato qualcosa, quindi adesso vado sotto a vedere, una cosa totalmente imprevista, però dovrei aver aperto una porta, infatti ho aperto questa porta qui che mi dà accesso a questo forziere, apro il forziere, all'interno trovo schermino del fabbro, collana di pietra, posso venderle per soldi. Quindi non ho posto per tutto, quindi devo scegliere un attimino cosa buttare. Utensi di riparazione, resina di pino, non me ne frega niente, prendo questo, e poi magari butto anche l'alipare a rosto, anzi la metto qui. Questa non mi interessa, lo butto via. Non l'ho buttata, ma va bene. E questo era uno dei classici, diciamo, minigiochi, ne ho trovato uno, come vi ho detto, nel boschetto, insomma, dove bisognava aprire nell'ordine giusto delle pietre. Mi ha intrattenuto, divertente, e va bene. Ah, ok, quello, il simbolino qui era il, questo punto qua di interesse. Mentre se andiamo verso, di là, verso sud, c'è un accampamento, gli scout areali, ed è molto bello, perché sembrava, quando la prima volta che l'ho visto, il circo. In realtà, questi qua sono molto cattivi. Vedete che c'è lui, che ci attacca. Adesso vi faccio vedere com'è Shalbo il combattimento, che è un peccato, perché il gioco non è male, di per sé. Allora, vedete che adesso io potrei attaccarlo. La cosa brutta, e questo è il capo, tra l'altro, no? Vedete che quando voi abbattete un nemico, vabbè, gli fa il colpo finale, non è male, ma lui non lascia cadere oggetti, ma raccogliete solo del denaro. Quindi questo è un po' un peccato. Il combattimento è un po' legnoso, non Shalbo, legnoso, perché poi potete fare le parate, insomma, però diciamo che non è il fulcro del gioco. Ora, prendo il tasto 5 o 4, che era, vediamo qual era, eh no, vorrei avere una pozione, ma non ce l'ho. Quindi niente, scappiamo. Speriamo smettano di inseguirmi, prima o poi. Sì, quando poi i nemici scappano e tornano indietro, diventano invincibili, quindi non potete colpirli. Lì sotto c'è qualcos'altro, vedete, lì sotto c'è un altro mistero, perché lì sotto c'è probabilmente una miniera. Quindi lì una miniera ha un accampamento e l'accampamento può nascondere oggetti, può nascondere quest e ovviamente l'uccidere banditi o truppe del principe Giovanni, del re Giovanni ormai, ci farà guadagnare dei punti di reputazione. Bottiglia vuota, adesso io volevo però vedere se avevo qualcosa, idromele, salute immediato, P25 la metto qui nel 5 e la bevo. Ok, ho guadagnato subito un po' di salute. Posso decidere di tornare al villaggio, vediamo se mi funziona il viaggio rapido, sì, e poi posso andare anche a dormire, quindi posso far passare la giornata. Queste sono le basi, quindi non credo ci siano, ci saranno cavalli, poi magari mi sbaglio e ci sono, però da quello che ho visto no, vado a letto, salvo e scelgo di andare all'alba. Quindi dormo, riparto e così via. Adesso dovrei vedere se ho della gente libera, perché ovviamente io ho ho 4 lavoratori disponibili e per farlo a me serve, ne servono 5 per fare i lavoratori del laboratorio di alchimia, quindi devo capire professionisti, livello 1, ok, questa è una cosa che non avevo visto, mi servirebbero lavoratori assegnati 0000, ok, quindi qui va bene, ma se io volessi togliere un lavoratore da un punto e metterlo in un altro, devo studiarmela come funziona, perché la parte principale fondamentalmente dovrebbe essere questa, quindi voglio capire nessun lavoratore assegnato, ok, no, no, ma è molto più profondo di quello che sembra per quanto riguarda questa parte gestionale qui. Quello che io invece volevo farvi vedere, diciamo, è il farvi scoprire questo gioco che è in uscita il 29 di febbraio, vedete che parla, lui risponde anche, cioè è molto bello e è tradotto molto bene, devo dire. non ho visto cosa ho accettato, però poi non so neanche quanto ci azzecchi un Robin Hood che amministra un villaggio che poi, sì, la community l'aveva, ma era una sorta di combricola diciamo di fuorilegge insomma, però piove, è ancora notte, non è ancora sta arrivando l'alba insomma il cielo è abbastanza rossiccio però piove lì vedete le cascate come vi ho detto non sono un gran crema sono meglio di tante altre andiamo a equipaggiare l'arco vediamo se colpendo quello succede qualcosa no è da lutare però vedete se io adesso vado qui e attivo e adesso non ho servi da cacciare però se io attivo perché all'inizio vi fa fare il cibo per rallento e vedete che si muore piano quelli lì chi sono? vedete che mi stanno vedendo adesso rallento ok guadagno un po' di tempo sono banditi allento il tempo lo colpisco ok ucciso e ho lutato due cose un omaggio e questo ma non si lutano purtroppo le armi le armature anche perché Robin Hood non è che si mette la cotta di maglia al tempo stesso abbiamo accesso a questo campo apriamo la cassa all'interno troviamo farina d'orza anguilla niente di che non possiamo fare molto altro però possiamo cuocere le cose intanto sono morto perché ho toccato il fuoco e sono morto quindi ricarico l'ultimo save il principio diciamo di morte e rinascita è dovuto ai salvataggi che fa il gioco in questo caso l'abbiamo fatto salvando diciamo passando il giorno qua abbiamo il forziere con le cose all'interno il fatto che sia un single player mi fa molto pensare perché cavoli mi metto una mappa del genere con tante questa tante reputazioni a far salire quindi o è un grandissimo gioco o rischia di essere dispersivo insomma io non so se voi avete già provato mi pare ci fosse in giro una demo un prologue comunque fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima e ciao 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 ciao